Il professore Oddo è il nostro candidato sindaco per erice del Movimento 5 Stelle, è supportato da quattro liste civiche e stasera ci teneva ad incontrarti per trasferirti l'entusiasmo che sul territorio stiamo riscontrando e speriamo insomma il 12 e il 13 di poter incrociando le dita festeggiare un buon risultato. Siamo lì e lì, quindi speriamo bene e ci serve anche un tuo supporto da poter trasferire a tutti i cittadini del territorio. Cari cittadini di erice, qui c'è un collega, professori come me, il professor Oddo e il Movimento 5 Stelle è fortemente impegnato per questo progetto politico, per offrire anche una svolta ad erice per migliorare quella bellissima cittadina, la vostra bellissima cittadina, per migliorare la qualità di vita della vostra comunità. Quindi vi prego, votate il Movimento 5 Stelle, votate il professor Oddo come nuovo sindaco, abbiamo bisogno di squadre, di nuovi amministratori che possano fare il bene per la nostra comunità, possano spendere bene i soldi del Piano Nazionale di ripresa e residenza. Un abbraccio.